595.000 infortuni, gennaio-ottobre, 909 morti e 50.000 malattie professionali. Qui voglio aggiungere quanto sia importante per tutti questo progetto che avete svolto, perché voi giovani siete il futuro del mondo del lavoro nelle aziende. Magari lavorerete come dipendenti o magari aprirete delle aziende come imprenditori e far sì che voi possiate arrivare pronti e preparati con l'educazione adeguata sulla sicurezza è fondamentale.